Ma... Cos'è? Posso andare alla festa di Luca stasera? Se vuoi puoi chiamare la mamma di Luca così vi mettete d'accordo Per... Chiede a tuo padre! Chiede a tuo padre, vedi cosa ti dice? E poi vediamo! Ma... Ehi! Posso andare alla festa di Luca oggi? Alla festa? Ah! Chiedi alla tua madre questa cosa! Io... Ma mi ha detto di chiedere a te! Non mi interessa! Quindi posso andare alla festa? Tuo padre cosa ha detto? E non mi ha detto di chiedere... Eh! Non mi chiede glielo! Eh! Ma... Ha detto di chiedere a te posso andare alla festa? Ah! A tua madre chiede! Posso andare! Chiede a tuo padre! A tua madre! Tuo padre! Tuo padre! Tuo padre! Oh! Posso andare! Tanto dovete andare a bere alcolici vero? No! Io già me lo immagino guarda che devono bere le cose lì! No! No! Dovete andare anche a fumare gli spinelli come minimo! Sicuramente dovranno anche quelli con i tatuaggi ladri schifosi delinquenti! No! Ci sono anche ragazzine vero? Ah! No! No! Che dovete fare le cose con le ragazzine come minimo! Ohia! Non fermaci pensare a queste cose guarda! No! 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 E cosa cazzo andate a fare alla festa? Ohia! Ah! Fa culo! Cos'è sempre il petto!